Alessandro Mazzaro, grazie per il tuo intervento. Allora, ci puoi dare i dati finali di questo entusiasmante ballottaggio a questo punto tra i due candidati sindaco di Ponte Cagnano-Faiano? Sì, allora, salve a tutti i telespettatori, buon pomeriggio a tutti. Allora, è stata una lunga notte, l'osclusivio si è prodotto praticamente fino a mattina inoltrata e solo ora finalmente abbiamo a disposizione i dati definitivi. I dati definitivi parlano di un Giuseppe Lanzara fermo al 48,51%, seguito da Francesco Pastore al 37,30%, Angelo Mazza 8,15% e poi a seguire Giovanni Ferro con il 3,13% e Longo al 2,91%. C'è da segnalare che Lanzara praticamente non ha raggiunto la vittoria al primo turno per una manciata di voti, 242%. Quindi il ballottaggio è il 24 giugno. 24 giugno, sì, ballottaggio, però Lanzara e Pastore sarà una bella partita.